Porta la tua attività sulla più grande web tv della provincia di Pavia. Mezzo milione di persone hanno guardato JAPTV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart tv a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot.japtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Il 46,6% dei giovani tra i 25 e i 34 anni vive a casa con i genitori. È il dato Eurostat diffuso dal Corriere della Sera. Insieme a Portogallo, Grecia e Spagna, l'Italia è il paese con la percentuale più alta. Secondo lei è più un problema di disoccupazione o un problema culturale e religioso, visto che i paesi cattolici sono inclini a trattenere, attirare ed aiutare i giovani? No, penso che sia un problema assolutamente di lavoro. Anche perché comunque io ho 44 anni e le cose sono cambiate negli anni, quindi non è sicuramente un problema religioso, proprio direi che è l'ultimo delle preoccupazioni. No, è un problema di lavoro, un problema di lavoro, un problema di costo della vita, per cui comunque un ragazzo giovane, anche se magari lavora, non ce la fa mantenersi da solo e quindi rimane a casa con i genitori finché può. Quindi essere indipendenti è complicato? È molto, sì. Lei ha dei figli? No. Pensi che in questo 46% c'è un po' di tutto, anche quelli che in Spagna vengono chiamati indivanados, diversos, ovvero quelli che poi militano dal divano di casa, in Italia li chiameremmo quelli sdraiati. Se suo figlio, ipotizzando che lei avesse un figlio, se suo figlio diventasse un indivanado? Sarebbe colpa mia. Sarebbe colpa sua, come mai? Perché sarebbe un'educazione sbagliata. Perché comunque si vuol dire che io dall'inizio gli ho dato l'idea che può stare lì a fare niente. Quindi non l'ho stimolato io, non si stimola neanche lui da solo, quindi sarebbe un problema anche di educazione. Ma secondo me è riconducibile il problema a entrambe le problematiche. Sicuramente le mamme italiane, come tutte le mamme latine, sono abbastanza possessive, quindi tendono a non motivare i ragazzi ad uscire di casa. E oltretutto la crisi economica non aiuta. Quindi un mix tra le due cose. Pensi che la nostra generazione è definita generazione Erasmus, cioè quel programma che ha permesso di vivere l'Europa unita grazie all'università. Una sorta di illusione, dice il Corriere della Sera, per quella generazione, chiamata anche generazione 1000 euro, perché guadagna quando va bene, purtroppo, questa cifra qua. Esperienze come l'Erasmus, secondo lei sono illusorie e raccontano ai ragazzi una realtà che non esiste, oppure non è così? Secondo me il problema andrebbe affrontato a 360 gradi, nel senso che tutta la società è impostata verso un non far vedere esattamente la realtà com'è. Cioè i grandi gruppi economici sono quelli che detengono il potere e hanno tutto l'interesse ad avere una popolazione poco informata. Sicuramente l'Erasmus, secondo me, è una grande opportunità. Dovrebbe essere un trampolino di lancio e poi ovviamente dipende anche dal giovane quanto è motivato a vivere in Europa o andare all'estero per la propria vita. Quindi spetta anche a ragazzi sfruttare l'opportunità? Assolutamente sì, il destino ce lo costruiamo da soli. Più che altro è un problema di lavoro, secondo me. Quindi la disoccupazione, manca il lavoro? Se non c'è lavoro come fare andare a vivere da sola? Non puoi. È anche il suo caso oppure no? No, io non ho, purtroppo ero 41 anni, non sono giovane, sono sposato e tutti. Io sono andato via che avevo 27 anni da casa. Però erano altri tempi, dice lei. Altri tempi, adesso non puoi. In questo 46% dei ragazzi c'è di tutto. In Spagna ci sono anche quelli chiamati indivanados, ovvero quelli che militano nel divano di casa. Quindi non si muovono mai dal divano, sono un po' gli sdraiati, quindi in Italia vengono chiamati così. Se il suo figlio diventasse un indivanado? Vende il divano. Vende il divano, giustamente lo lascia senza. Così si mette sulla sedia, ma se non hai lavoro lo devi andare a cercare, anche se non c'è. Poi se stai a casa non lo trovi. È una responsabilità anche dei genitori, secondo lei? Certo, dipende come ti educano i tuoi genitori. Se stai a casa tutti i giorni sul divano nessuno ti viene a cercare per andare a lavorare.